Il 28 di luglio va in scena la compagnia del teatro dialettale Il Guitto e qui mi sa che c'è da litigare da quello che ho capito. Eh sì, è una commedia ambientata in un condominio, il Palazzo de Baruffe, dove appunto si litiga parecchio. Quindi questo fatto che le riunioni condominiali portano delle volte a dei dissapori non è leggenda? No, no, non è leggenda per niente. Addirittura qui ci sarà nel finale un'assemblea condominiale molto infuocata. Infuocata addirittura, è un Palazzo dove avviene la Baruffe. Sì, vengono delle discussioni, delle scagnarate, diciamo così. Quindi avete già capito dai termini che utilizziamo tanto dialetto e sicuramente tanto divertimento. Sì, speriamo di divertire il pubblico come abbiamo fatto finora insomma. 28 luglio Arena BCC di Fano.